Signori, due pacchetti, e ne avevo già aperti altri ma non ho mai fatto le postecce, non ne avevo mai postati Allora, iniziamo subitissimo, Son Gohan, Adolescence, dai vado veloce tanto, Kami, Chonfra, Yanta, Clash of Kings, Bero, Oddio Basil, questa carta ci serve, queste sono tutte per Marco, bello, è una coma di merda però bellissimo Son Go Shielders, questo è bellissimo Porco lo diavolo, è bello, non so se sono playable, questo non lo sto giocando Questa si gioca, credo, si gioca sicuramente perché ruba dalle energie Dio porco, è fortissima, è fortissima, invece questa Vabbè, sì, vabbè, non troppo forte questo vegeto, ma con l'Android è fortissimo, ma perché non giochiamo Android? Beh, è un bel mazzo, cioè, è bello forte Vaffanculo, Coco Black, fa cacare Non è vero Attenzione Ok, ne apriamo un altro, abbiamo Bulma che fa le torte perché le donne... No, 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 no Sidra Mai, mai, mai più Go Giallo Non so come si dice Shirea Un'altra di Stagingana Tans Knights Vabbè Un altro Oh, ma me l'ho troffato, palese Dai Ma potete darmi due tenis? Questo pacchetto fa schifo allora Eh, vabbè Milano, Rossaniara Questa è un blocker Vabbè Ho visto, cioè, ho visto di me, è una merda Cioè, ho visto di me Oddio Una carta che costa 8 40 centesimi Molto bella però, sì Se la evochi sei Dio, cioè Se la sammo di sei mio padre Però, niente Boh, finita Cosa fa? Non l'ho letta Bella carta però Cioè, è nevocabile Se evochi sta carta Ti stringo la mano Vengo Ovunque dove vai Cioè Se tu sei tipo di caserta E mi dici che hai evocato sta carta E mi mandi un video dove la evochi E vinci Io scendo giù e E mi mandi un video dove la evochi è